come sto combattendo i chili di troppo e come loro si ribellano ehi la mi chiamo simona e sai con cosa fa rima se ti vengono in mente cose come carina o intelligente beh forse non sai fare una rima o come me forse neghi l'evidenza e già simona fa rima con cicciona e la gente continua a chiamarmi così senza motivo sì lo so lo so un motivo c'è sono anni che lotto con tutti questi chili di troppo ok forse lottare non è proprio la parola giusta perché in realtà spesso non mi sono impegnata così tanto anzi magari ho fatto anche di peggio ma onestamente ci provo un po e a volte funziona anche insomma giorni fa leggevo un libro molto ben fatto e scientifico sull'alimentazione no scherzo ho semplicemente cliccato su una di quelle pubblicità su internet consigli per dimagrire ed ecco cosa ho imparato tenere un diario e tenere traccia dei tuoi progressi devo dire che aiuta e condividere con gli altri ti mantiene motivato a non rinunciare ai tuoi sforzi per dimagrire così ho deciso di condividere la mia esperienza online con il resto del mondo 14 milioni di persone che però non sono le persone che mi beccano ogni tanto voglio dire tu non mi troverai in cucina in una delle incursioni notturne abbracciata a un secchio di gelato com'è successo a mia nonna l'altra notte ma quando ti prometto che ci proverò dico sul serio e spero di non deluderti e dimostrarti i cambiamenti che meriti di vedere ok quindi ho deciso di iniziare con qualcosa di adatto a me sai com'è non ho mai abbastanza tempo per la palestra ok va bene non ho abbastanza forza di volontà per alzarmi e andare in palestra quindi sono partita da 5 minuti di allenamento per persone pigre del lato positivo andava tutto bene finché non sono arrivati gli esercizi o sono troppo pigra o non sono abbastanza in forma per riuscire a sopravvivere un minuto a questa tortura di plank parliamoci chiaro voi dite il plank è un esercizio di base facile qual è il vostro segreto avete dei pannelli solari incorporati o vi nutrite di lacrime di unicorno io proprio non capisco andiamo avanti forse dovrei lasciare che una bevanda magica faccia il lavoro sporco per me e dare una possibilità al video soltanto due bicchieri al giorno per una settimana per avere una pancia piatta proviamo mi son detta quindi mi sono fatta una bella tazza di tè allo zenzero sicuramente brucia ma siamo sicuri che siano i grassi quelli che stanno bruciando bene una settimana in cui mi sono impegnata senza risultato se ora ci ripenso in effetti forse è colpa del cioccolato ma in qualche modo dovevo sbarazzarmi con la sensazione di bruciore e premiarmi per tutto l'impegno per dimagrire no ok sicuramente non stavo seguendo un'alimentazione equilibrata e ricca di cereali integrali forse una bevanda latte e aglio è quel che ci vuole mi son detta un po di latte e aglio prima di andare a letto dovrebbe essere come mangiare latte e biscotti forse anche meglio l'indomani mi sono svegliata con un saporaccio erano latte aglio e biscotti sì devo ammetterlo bene nell'allenamento nelle bevande magiche hanno sortito alcun effetto su di me qualcuno mi ha detto che la colpa è di quello che mangio quotidianamente che disastro poi è arrivata la fase sette abitudini mattutine che non ti fanno perdere peso beh alla grande con la colazione uova e pancetta e oreo ma quel giorno non sono potuta andare a camminare perché pioveva e poi mi sono dimenticata di bere un bicchiere d'acqua al risveglio certo potevo riprovarci l'indomani anche se il pensiero non mi allettava forse potrei metterci dello sciroppo ora qual è il prossimo step ehi come hai fatto a indovinare che non ho fatto la parte degli esercizi e quel risparmiati i piatti più prelibati per il pranzo o per la cena oh sì di questo posso parlarti a profusione ok mi son detta mi limiterò a quello che riesco a fare e vediamo come va a quanto pare l'esercizio fisico a qualcosa deve servire dato che continua a vedere che tutti lo fanno o che comunque pubblicano foto mentre lo fanno ti ricordi che io e il plank non andiamo tanto d'accordo vero ebbene ho trovato degli esercizi senza plank niente da fare io proprio non ce la faccio a non inventare scuse per saltare l'allenamento una volta ho anche inventato di essermi buscata un raro virus tropicale mentre ero in campeggio in loa così tutto a posto beh a mali estremi estremi rimedi e per una che ama così tanto il cibo c'è solo un rimedio il digiuno onestamente non penso di poter sopravvivere al digiuno tipo che so una settimana senza cibo quindi ho deciso di optare per il digiuno intermittente in questo tipo di digiuno devi scegliere un modello tipo il modello 16 8 il modello 5 2 e udite udite il mangia pausa mangia il mio preferito solo per come si chiama durante il periodo in cui si mangia puoi mangiare cibo regolare in modo da poter affrontare il periodo di digiuno con una rock star e niente bevande zuccherate in nessun momento il primo giorno di digiuno un mio amico mi ha invitato a prendere un caffè e lui non lo vedevo da quando è uscita la quarta stagione di game of thrones il giorno dopo mia nonna ha cucinato la sua famosa pasta alla carbonara per cena come dire di no a nonna insomma questo esperimento non è andato poi così bene pizza ok forse ho solo bisogno di più motivazione sarò come una di quelle modelle blogger e creerò una mappa dei desideri una sorta di collage di tutte le cose interessanti che riuscirò a fare quando avrò il corpo perfetto oddio l'ultima volta che ho provato a fare un collage non è finita benissimo ma come facevo a sapere che mia madre metteva da parte quelle riviste vintage da tutta la vita questa volta opterò per una rivista di coupon c'era quella pubblicità della palestra niente male e tutte quelle foto di gonne corte e strette cos'altro può motivarmi a perdere peso viaggiare per il mondo no posso farlo anche così incontrare ragazzi sexy ma se poi gli piaccio solo per il mio aspetto è vero amore lo stesso per ottenere il lavoro dei miei sogni beh se non devo fare la ballerina e la fitness blogger qualcosa mi dice che nessuno di questi è il mio mestiere beh posso comunque fare tutto da pienotta quindi tutta questa storia dei collage motivazionali funziona davvero mi ha aiutato a perdere tutte le possibili motivazioni per dimagrire finché non supero un certo limite e se non mi dà problemi di salute preferirei rimanere così come sono e godermi la vita così com'è allora dov'era quella torta al pistacchio vieni da mamma tu sì che mi rendi felice altro che due ore in palestra ogni giorno che cosa ne pensi per te è più importante apparire come un palestrato o avere la pancetta e saperti godere le piccole cose che ami ok no non sto parlando di pancetta alla griglia ma ora che ci penso un croce spazano io non sto parlando di pancetta alla griglia ma ora che ci penso che difficile Grazie a tutti.